Non ci c'è tanta collezione, abbiamo visto praticamente tutto in un solo anno Per frittura è andato molto bene, però è un premio molto importante anche perché io seguivo questa trasmissione anche quando il tempo era il Festival Band, da quando è piccolissimo e quindi per me è veramente un'altra banale Ci sei più detto a gusto? No, io faccio il medico che posso ovviamente Ma questa è l'inizio di una lunga serie, grazie Enrico! E' vero, il tour parte il 7 luglio ovunque e quindi il 7 luglio che stiamo andando facciamo fare un premio quindi è tutto bene E' vero, il tour parte il 7 luglio ovunque E allora continuiamo la ricerca della canzone